Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho costruito una semplicissima ma molto efficiente farm di guardiani. Se vi siete persi il video della scorsa settimana, beh, dateci un'occhiata perché è davvero molto interessante. Come vedete oggi mi trovo qui sulla mongolfiera perché partiremo per un viaggio. Infatti questa settimana è uscito un nuovo snapshot che ha aggiunto finalmente una prima versione, molto preliminare, delle nuove caverne della 1.17. E quale migliore occasione se non andare a farci una esplorazione. Prima di partire per questa pericolosa missione voglio mostrarvi che cosa ho fatto in queste ultime settimane in live su Twitch. Vi ricordo live ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.30. Il link per raggiungere il canale l'ho trovato nella descrizione del video. Quindi venite sul canale, lasciate un follow e vi aspetto ovviamente in live. Allora, ultimamente stiamo lavorando una zona vicini alla giungla che è qua dietro. Qui c'era una caverna non decorata e abbiamo iniziato a sviluppare un progetto che si sta evolvendo di settimana in settimana. Allora, qua si scende da questo sentiero. È ancora un work in progress e quindi ci sono ancora delle cose da terminare. E attraverso questa parte qua arriviamo in una misteriosa caverna, ragazzi. Eccola qua. Qui c'è un burrone, ragazzi, senza fine, quindi dobbiamo stare attenti a non cadere. E qui c'è una testa di scimmia che però nasconde un segreto. Se noi andiamo a prendere due blocchi, uno, due, e andiamo a mettere un blocco su questa pressure plate e un altro su quest'altra pressure plate, boom! Si apre un passaggio segreto attraverso la bocca della scimmia. E qui dentro, ragazzi, vedete un po' che cosa troviamo? Sì, sono proprio loro! Le cesoie sacre che vi ho mostrato qualche settimana fa. Come vedete la scimmia le sta mantenendo in aria. Le possiamo andare anche a prendere, volendo, e riporre. E qua sopra c'è una stanza particolare. Sembra l'accesso a un altro mondo con dei fantasmi ed è tutto buio. Molto interessante. Ma le cose non sono finite qua, ragazzi, perché in realtà stiamo lavorando a qualcos'altro. Se infatti andiamo da questa parte, ragazzi, abbiamo questa che sembra essere una normalissima parete. Ma in realtà nasconde anche questa un segreto. Infatti, se qua andiamo sotto, troviamo un bottone. Premendo questo bottone, praticamente viene lanciato da un meccanismo un libro con una storia. La storia, appunto, delle cesoie sacre che abbiamo visto prima. Quindi qua abbiamo scritto giusto due parole. Questa è un'idea di uno dei miei iscritti su Twitch. Ma la cosa importante è che qua dietro, ragazzi, si è aperto un passaggio segreto. Che abbiamo sviluppato un po' prendendo spunto da uno dei film di Indiana Jones. Vi ricordate Indiana Jones e l'ultima crociata? Ebbene, qui, ragazzi, c'è il passo della fede. Ora ci sono ancora delle torce perché questa caverna la stiamo ancora sviluppando. Ma volevo comunque farvela vedere. Vedete, ragazzi? Un abisso senza fine. E voi potete camminare sopra perché, ovviamente, sono strati di vetro. E qua in fondo, ragazzi, ci sarà un percorso che, però, adesso è illuminato con le torce. Ma in futuro sarà illuminato dalle sole candele. Quindi vi faccio vedere l'effetto. Eccolo qua, ragazzi. Guardate l'effetto che stiamo creando. Tra l'altro qui non spawnano mob perché siamo sul vetro. E quindi siamo tranquilli. Da questa stanza proseguiremo, ragazzi, in un'altra stanza con altre prove che andremo a costruire. Cercando di, appunto, fare una cosa simile a quella del film. Bene, questi sono alcuni esempi di ciò che facciamo in live su Twitch. E questo è anche un modo per invogliarvi a fare un salto. Ma ora passiamo all'esplorazione di oggi perché, ragazzi, ci dobbiamo preparare. Allora, sto pensando all'equipaggiamento da portare per questa missione. Come vedete, oggi mi sono portato delle pozioni di Night Vision che ci serviranno per vedere all'interno di queste caverne che sono davvero enormi. E anche delle pozioni per respirare sott'acqua. Perché, ragazzi, la maggior parte di queste caverne, al momento, quindi poi verranno corrette nelle prossime versioni, sono, per la maggior parte, completamente allagate. Quindi dovremo nuotare per poter scendere in profondità. Ed eccoci qua, ragazzi. Ho ricaricato il mondo con l'ultimo snapshot. Per poterlo fare, dato che la Mojang non dà questa possibilità, ho dovuto modificare alcuni file all'interno del mio salvataggio. Per fare in modo di poter caricare il mondo e di poter generare i nuovi chunk nella zona che andremo ad esplorare adesso. Mi raccomando, non fate queste cose se non avete un backup del vostro mondo. Perché potrebbero essere davvero pericolose. La Mojang ha modificato, oltre al modo in cui si creano i mondi, anche l'altezza massima e minima a cui si può costruire. E siamo arrivati a più 320 e a meno 64. Quindi, incredibile. Ma ora non perdiamo tempo, ragazzi. Andiamo nel Nether. Ok. Adesso dobbiamo salire sul tetto del Nether. E andare nel portale che avevo costruito un po' di tempo fa. Che mi porta in una zona che ancora non ho esplorato. Quindi saliamo sul minecart e andiamo sul tetto del Nether. Ok. Dobbiamo andare da questa parte, ragazzi. Quindi questa è la zona. Sì. Dobbiamo proseguire ancora. Qua dovremmo tra poco incontrare un portale. Che è quello dove ci sono le terre della 1.17. Vediamo un po' se arriviamo. Attenzione. Eccolo. Eccolo. Atterriamo qua. Morbidi, morbidi. Ci siamo. Terre 1.17. Quindi andiamo a togliere l'elitra. E ragazzi, tuffiamoci nel nuovo mondo. Anzi, mettiamo subito questo. Non so cosa potrebbe succedere. Ma dobbiamo essere pronti. Si va! Vai! Aiuto, ragazzi. Ho paura. Speriamo non sia notte subito. Ma lo sarà sicuramente. Ci vorrà un attimo. Eccoci! Infatti è notte fonda. È notte fonda, ragazzi. Allora, intanto mettiamo un letto e dormiamo. E poi iniziamo ad esplorare. Allora, ragazzi. Apparentemente questo tranquillo lago nasconde un segreto. Quindi prendiamo la pozione e iniziamo ad addentrarci negli abissi di questa caverna, ragazzi. Ho guardato ed è davvero enorme. Tra poco userò anche Night Vision. Ma voglio prima farvi vedere che razza di caverne ci sono qua sotto. Guardate! È incredibile, ragazzi. Gli abissi. La fossa delle Marianne, ragazzi. Guardate che roba. Ci sono anche i licheni che fanno un po' di luce. E quindi nuotare in queste caverne è davvero incredibile. Secondo me, ragazzi, non saranno così nella versione definitiva. Ma un po' ci spero. Perché anche fare queste cose è davvero una figata. Quindi alzate un po' la luminosità. Qua se avete problemi tra poco utilizzeremo anche Night Vision. Però così è molto più suggestivo alla esplorazione, eh. Assolutamente. Mamma mia! Ecco, qua siamo arrivati dove ci sono delle stalattiti e delle stalagmiti. Pazzesco! Ragazzi, proviamo a mettere Night Vision e vediamo dove siamo arrivati. Allora, Night Vision. Ok. Si va. Accendiamo le luci! What? What? Ok, adesso si vede molto meglio. Era forse più bello prima, eh. Devo essere sincero. Allora, qui c'è un po' di... Ah, ok. C'è una specie di lago qua. Andiamo ancora in profondità. Una cosa che ho notato è che ci sono un sacco di materiali esposti. Dato che mi sembra un po' un cheat in questo momento andare a prendere queste cose, perché secondo me non sono definitive, ragazzi. Al momento non voglio ancora andare a, diciamo, prendere tutti quanti i materiali. Allora, dobbiamo stare attenti, perché a noi sembra che ci sia luce, ma in realtà qui è completamente buio se tolgo Night Vision. Quindi, ragazzi, qua spawnano un sacco di mob. Ecco, queste sono zone che assomigliano tantissimo alle nostre... Che spavento! Caverne antiche, quelle che avevamo già prima. Quindi ci sono un misto di cose. Ma guardate. No, 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 no. Attenzione, attenzione. Questo non mi sta picchiando. No, no, no. Dobbiamo stare attenti. Abbiamo bisogno del nostro arco incredibile. Ok. Pazzesco! No, scendiamo, ragazzi, scendiamo. What? Potrei prendere veramente di tutto, eh? Potrei prendere di tutto, ma al momento voglio solamente esplorare, ragazzi. Perché veramente stiamo facendo qualcosa che non dovremmo fare. Anche se la tentazione... Beh, qualche diamante magari lo porto, se lo trovo. Perché sono davvero, davvero facili da trovare in queste zone. Ci attaccheranno da ogni dove, ragazzi. Senza mettere torce. Però ci proviamo. Uh, qua c'è un bioma diverso. Andiamo da questa parte. Vedete che in queste parti qua manca anche la lava, ragazzi. Non c'è più, diciamo, quella parte con i vari laghi di lava. Però, probabilmente è qualcosa che devono andare a sistemare. Anzi, non probabilmente, sicuramente è qualcosa che devono andare a sistemare. Allora, sto approfittando ancora di avere water breathing, ragazzi, per fare un altro giro qua. E vedere se troviamo altre zone. Intanto, ogni tanto trovo dei mob che sponano. Ovviamente non dovrebbero sponare sott'acqua così. Mamma mia! Dove stiamo andando? Oh, oh, oh! Poi vorrei trovare delle caverne simili, ma senza acqua. Guardate! Diamanti esposti! E vabbè, raga. Li prendiamo per ricordo. Li prendiamo per ricordo. Diamanti esposti. Vedete? Secondo me qui dovranno modificare, perché è troppo facile, ragazzi, trovare i diamanti. Soprattutto in queste caverne gigantesche. Oh, oh! Che spettacolo! Non vedo l'ora che vadano a finire questa generazione del mondo, perché è davvero eccezionale. Allora, ho finito l'effetto della pozione di respirazione sott'acqua, quindi adesso procederei direttamente a piedi, anche se ancora a Night Vision, e vediamo che cosa ci riserva questo mondo. Vorrei trovare davvero una caverna di quelle che avete visto prima, ma accessibile senza acqua. Allora, ragazzi, ho deciso un attimino di spostarmi con l'Elytra, in modo da esplorare più velocemente. Uh, c'è un villaggio qua! Allora, andiamo da questa parte. Perfetto. E vediamo se c'è qualcosa di interessante. Buongiorno! Avete costruito la casa in una zona un po' pericolosa, eh? Ehm, diciamo che ho forzato un attimino l'ingresso. Mi scusi, voglio vedere... No, non è nulla di interessante. Gliela metto a posto la casa, eh... Oh, guarda, anche qui ci sono due casette. Eh, ceste. Oh, qui c'è una cesta. Oh, beh, gli smeraldi non si assolutamente rifiutano. Benissimo, benissimo. Ce n'è un'altra qua. Ok, doppia porta. Questa c'ha... L'anticamera c'ha anche, va bene. Eh, ora proseguiamo il nostro viaggio. Con l'Elytra, alla ricerca delle caverne. Allora, ragazzi, qua sotto mi sembra esserci qualcosa, quindi andiamo a prendere un'altra pozione di respirazione sott'acqua e prepariamoci la night vision e speriamo bene che qua ci porti da qualche parte. Allora, vediamo un po', mamma mia. Io vorrei quasi lasciare così perché è davvero suggestivo. Tutta sott'acqua. Qui sembra ritornare in superficie. Eh sì. Eh sì, ragazzi. È praticamente una caverna così. Wow, il ghiaccio. No, ma bellissimo. Bellissimo. Però voglio provare a vedere se c'è qualche deviazione con la night vision. Oh, 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 attenzione. Qua sembrano esserci... Oh, un momento. Oh, si scende di qua. Va bene, va bene, si scende. Siamo... Speriamo che vada da qualche parte. Oh, 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 oh. Oddio, dove siamo capitati? Devo prendere il creeper? No, 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 la mia mira non è così. Devo allenare un po' la mira in queste caverne nuove. Ok, l'ho ucciso. Eh, scendiamo. Scendiamo, ragazzi. Siamo in una caverna libera dall'acqua. Mamma mia. Uh, cosa mi aspetta qua? Aiuto! No, voglio... Ah! No, 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 no. Fatemi prendere questi. Ai, 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 ai. No, 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 raga, qui è tutto buio, è normalmente, e io qua mi spona di tutto, mi spona di tutto, ok, no, vabbè, ma, ragazzi, guardate la dimensione di questa caverna, pazzesco, pazzesco, andiamo di qua, vediamo, mamma mia, quanto è grosso, no, con la lava che scende, ok, se fosse tutto completamente buio sarebbe davvero terrificante, ragazzi. Un'altra cosa davvero molto, molto difficile per l'esplorazione, ragazzi, è il fatto che siano così alte, quindi si rischia davvero di farsi male cadendo dall'alto, vabbè, però, guardate qui, anche, oh, che spavento, pensavo fosse lava, oh mio Dio, oh mio Dio, ma, vi rendete conto la dimensione di questa caverna? Ora, io aspetterò che vada via Night Vision per farvi vedere l'effetto qua sotto, aspettate che qua mi attaccheranno da ogni dove, quindi devo prenderli da lontano, ok, anche il ragno, perfetto. Quello là in fondo si muove, vediamo di prenderlo, ok, è fermo, però meglio assicurarsi di avere la strada libera, ok, possiamo scendere. E poi a salire, vabbè, ci pensiamo dopo, ragazzi, ci pensiamo dopo, c'è un creeper, guardate, un sacco di materiali esposti, ripeto, non prendo niente per rispetto, perché non sono sicuro che questo sarà definitivo, anzi, mettiamo anche questo, quanto abbiamo? 4 minuti ancora, va bene, abbiamo ancora tempo. Qui c'è ancora dell'acqua, uh, ok, potremmo provare a scendere anche qua, un pochino, ok, andiamo di qua, vediamo, ok, si finisce qua. Ecco, i laghi sotterranei, sì, penso che quelli li manterranno anche in futuro. Mamma mia, che roba, che roba, pazzesco, pazzesco, veramente eccezionali. Guardate qui come si apre, uh, una miniera, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto, ragazzi, non vi ho detto, hanno sistemato le miniere in modo che non volino. Infatti, se potete, se notate qua, ragazzi, la miniera c'è, ma ha questi pilastri che mantengono praticamente la strada. Le miniere non sono state modificate rispetto a quelle vecchie, quindi, oddio, oddio, la coppiata vincente, oddio, mi mie cocò, oh mio dio, il mini no, eh, mamma mia, sto rischiando, eh, un pochino, un pochino, un pochino, ok, prendiamo questa, un altro mini, un altro mini, mamma mia, è pesa, è pesa, 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 ecco, mi hanno dato anche fuoco, ok. E qui bisognerebbe illuminare, bisognerebbe illuminare qua, eh, sì, ok, e gli attacchi sono forti, sono potenti, ragazzi, ci sono anche gli enderman, è pieno di pipistrelli, ok, è pieno di zombie, però qui più o meno abbiamo visto tutto. Allora, ragazzi, sta finendo l'effetto della night vision e ora vi faccio vedere questa caverna come sarebbe normalmente illuminata. Eh, insomma, eh, insomma, è abbastanza pericolosa, come potete notare, qui si sprecheranno le torce e quant'altro. Ora proviamo a scendere di qua, ragazzi, aia, 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 vado con l'ender pearl, ok, mamma mia, provo a esplorare un po' senza night vision, così vediamo meglio, ok, va bene, qua esploderà di tutto, di più, ok. Le ultime cose le guardiamo così, ragazzi, così avete un'idea di cosa vi aspetta quando avremo le caverne definitive, mamma mia, che roba, considerando, guardate, cioè, qui se non state attenti, ragazzi, vi lasciate, vi fate male, eh, vi fate veramente male qua, se non state attenti. Ah, ci sono gli zombie, ok, ok, devo fare altre torce, devo fare altre torce, ok, ho qua comunque questo, via di torce, perfetto, ok, piazziamole e andiamo. Guardate, altri diamanti, avrei potuto fare incetta di pietre preziose, però ne ho tantissime, ragazzi, quindi guardate, veramente un sacco, bellissimi licheni, forse ne metterei un po' di più, ragazzi, di licheni rispetto a quelli che ci sono, per illuminare meglio, perché guardate che qua dentro spona il mondo, eh, spona il mondo qua dentro, eh, è incredibile cosa spona, eh, vedete, vedete, qua non ci si va facilmente nelle caverne, non ci si va facilmente nelle caverne. Spero di riuscire a tornare in superficie, farò al limite un pillar verticale, per aaaah, questo mi inseguiva per poter uscire da qua, pazzesco. Ok, siamo arrivati alla fine, ragazzi, della caverna, sì, credo proprio di sì, a questo punto, con altri diamanti esposti, pazzesco, e vi faccio vedere il risultato qua, ragazzi, io torno in superficie, e direi che posso anche tornare a casa, perché abbiamo visto parecchio. Allora, ragazzi, sono dentro praticamente queste caverne incredibili, di lì vedo più luce, forse c'è la superficie! Oh yes, oh yes, ragazzi, superficie, finalmente, posso uscire? Ah, sì, che bello, sono in una zona con il ghiaccio, ok, oh no, la superficie è ghiacciata, ok, ah, lì si può uscire, perfetto, wow! Mamma mia, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo usciti da questo incredibile, incredibile dedalo di caverne, e ora facciamo rientro a casa. Ok, dovremmo essere in zona, ragazzi, il portale dovrebbe essere da queste parti, vediamo se lo trovo, ok, più o meno. Eccolo, 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 eccolo qua, wow, yes, ahia, yes, torniamo a casa, torniamo a casa, vai, sì, si va, si va, si va, si va, speriamo di arrivare nel nether, piove nel nether, ah no, non piove nel nether, ok, perfetto, eccoci, ragazzi, siamo arrivati, voilà! Oh, che bello, che bello, possiamo togliere questo, tornare giù, yes, si va, uh, sono tornato, ragazzi, da questa missione incredibile, per fortuna avevo l'elitra. L'elitra sono servite davvero, davvero tantissimo, ragazzi, davvero tantissimo. E dunque, ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio, spero che questa esplorazione nelle nuove caverne vi sia piaciuta, come vi avevo promesso, arrivano anche le esplorazioni adesso con la nuova versione. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi aspetto questa sera in live su Twitch, link, come sempre, in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio! Ciao a tutti! Ciao a tutti!